Bene ragazzi ci siamo, siamo qua, quarta giornata di PP, ovviamente serie di power, ovviamente con i randomini ragazzi, speriamo bene, prima di iniziare il video ragazzi vi ricordo un bel pollicione all'insù, condividete il video con i vostri amici, parenti, genitori, nonni, zii, cugini, addirittura lontanissimi, quindi proprio cugini secondo, terzo, quarto, anche fino al settimo grado, va bene ragazzi, non vi preoccupate. Detto questo vi ricordo anche di seguirmi nelle varie live sulla piattaforma Violacea e anche di seguirmi su Instagram a Tortello, trattino in basso, TGR, ma tanto sta tutto qui sotto in descrizione, quindi ricapitolando la cosa, noi stiamo qua, rapina, quarta giornata, ragazzi io questa mappa penso che lo zio Brocchino è veramente sgravadino, quindi ci proviamo, ci proviamo e ci buttiamo nella meschia, speriamo veramente che il dio della Supercelli ci faccia trovare qualche randomino discreto, E invece, niente, niente ragazzi abbiamo trovato qui, ve lo veramente, lo puro Splashy e lo puro Dekamen, che niente Dekamen ragazzi lo sto a vedere disperatamente disperato nella situazione, io qui sono morto, non so come, non so come sono morto ragazzi, assurdo, va bene, va bene, va bene, sono morto, qui c'è sta nessuno, qui c'è sta nessuno, qui c'è sta, è lui. Ok, va bene, va bene, va bene, non abbiamo fatto ancora un hit, arriva il Daina, Osho, Osho, al Daina ragazzi, devo stare attenta, MZ, va bene, ho fatto un po' di danni, loro ce l'hanno fatti di più, però mi sembra che, ah no, non so chi sta, chi stia facendo il danno, Eh, Splashy dobbiamo andare sopra, ok, 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 stiamo tranquilli eh, oh, 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 oh mio Dio l'ho iltato ragazzi, 64, 67, 61, dobbiamo distruggere la torretta, bravo Splashy, mamma mia, ma chi sei, ma chi sei, ma tu, ma che randomino sei, l'ho presa, L'ho ripreso ancora ragazzi, 51, 66, oh, mi raccomando, raga, lasciate sto là, che veramente è qui partita stradirata, vabbè, qui ragazzi, ma, ma, l'ho predictato, e alla fine, vabbè, ce li lascio lì, li lascio lì, tortello, iberpushing, iberpushing solidario, oh mio Dio, spara il razone, impazzino il tortellone, 8%, ancora un'altra hit, no, vabbè raga, il piscello di gomma mi ha fatto levare il, L'ultima hit, va bene, va bene, però mi sono beccato le mvp, boom, animale ragazzi, animale, più trionfo epico, cioè, showman's gone proprio, raga, la prima comunque sia, lo sapete, è sempre così, sempre il top, ovviamente se non siete andati a vedere le altre giornate, raga, in pp, in set di power, andatevela a recuperare perché, cioè, ne vale la pena ragazzoni, e poi lasciate il like, cioè, ma state a fare i raffagani con il like, io non ho parole, Banda le cianci, si continua ragazzoni, si continua Allora, Brock, devo dire che si è comportato bene, forse da stellare quella del saltino potrebbe aiutare, stecca Rico ragazzi ci distrugge, Rico ci distrugge, raga, questa qui sarà una partita veramente, veramente combattuta Io non so Eh Mr. P ragazzi sta a fare il brodo, sta a fare il brodo della star, veramente non, inutile, inutile Io ragazzi non lo so, aspetterò qui, aspetto Panita che, eccola Ok, sbudellata Ok, me ne vado, qui spacco tutto, me ne frego Fistarico ancora, mi ha killato, mi ha killato, allora, io, io ragazzi ve lo giuro Voi guardate che roba, guardate che roba mi è capitata ragazzi Che roba mi è capitata, che roba mi è capitata Cioè, aziretta ragazzi, questo niente, il nulla cosmico Cioè, guardalo un po' aziretta, guardalo un po' aziretta, ma questo è facile Ah sì, ah sì, quest'altro serviglia Mr. P, serviglia Mr. P, ma di che stiamo a parlare? Ma di che cosa vogliamo parlare, bomberi? Mr. P Mr. P Ovviamente non è morto, perché beh che fai, killi? No, non c'è killa No, vabbè, regà, non... Dai, questo primo c'è scarrella addosso tutta la ulti Dai, vabbè, ho missato il colpo, ma di che cosa stiamo parlando? Vabbè, basta, dai, vabbè, basta Misio, mi raccomando, frate, aspetta Aspetta, non buscia Misio Misio, non buscia, frate, sta tranquillo Ma chi se ne frega, ragazzi Cioè, mamma mia, ma sta gente te l'hanno pescata, oh Questi sono alieni, regà Questi sono alieni Questi sono alieni Io voglio andare a vedere coppe perché a sto punto qui c'è sta una truffa Qui c'è sta una truffa, regà Cioè, voglio, vabbè, mislet voglio andare a vedere Mamma mia, tu 25.000 coppe? Tu 25.000 coppe? Non ce credo, non ce credo Non è, non è, non è il suo account, regà Non è il suo account Quest'altro invece, Misio No, 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 regà Questa è una truffa Questi non so account loro, regà Non è possibile Non è possibile, veramente Cioè, io che sto a 25.000 e che ho faticato Questo qui non può stare a 25.300 No, 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 non esiste Ma non esiste, regà Non esiste proprio Cioè, cambio Metto Jesse, regà La fine di tutto mi metto Jesse Non lo so, sbaglio, c'è zecco Non lo so, regà, però Lo cambio, lo cambio No, non si può Nel frattempo, ragazzi, io ve lo ricordo Condividete sto video Mi raccomando Fate i bravi, porco cane Il ritorno, ragazzi Sul tubo Sto qui a 3.000 Non si molla Non si molla O che mollo Piff, piff Piff E mica mori, dici E mica mori, porco schifoso maiale Ragazzi, nida Nida quanto worka Veramente Quanto Oh, 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 oh Niente Quest'altro niente Niente Un po' l'ol 3.0 Un po' l'ol 3.0 Non riesce a beccare Manco la torretta, regà Oh, non riesce a beccare La torretta Bomberi Questo qui stiamo A livello successivo, eh Stiamo veramente A livello successivo, eh No joke No joke Guarda, oh Mica ti ci attaccano Guarda che roba Guarda Annulca 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 Niente 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 Il nulla Il nulla Il nulla Il nulla Il nulla Niente Quella lì ragazzi Ma guarda Non fa un colpo Ragazzi Concatenato Un colpo Concatenato Non riescono a farlo Assurdo 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 Vabbè Abbiamo perso Ovviamente Bella Bella win per loro Ringraziamo i randomini Veramente Io spero Che vi scoppia Il telefono Sulle mani E scoppia Il telefono Sulle mani Porco demonio Ma chi vi fa giocare Ma chi vi fa giocare Questa è colpa Dei vostri genitori Ragazzi Qui dovete Veramente Dovete Dovete Digli Mamma Papà Mi comprate Il telefono Fatemi stare Con la cornetta I fili I fili Voglio andare a vedere Le coppie Di questi Voglio andare a vedere Le coppie Di questi Io non ci credo Lol Zero Tre Quindicimila Va bene Frate Te lo congeto Annulca Se c'è più di Quindicimila Divento No vabbè Io ti segnalo Dove Dove segnalo Dove segnala Qui Ti voglio far bloccare L'account Va bene ragazzi Dopo questa serie Di power Disperata Io ragazzi Ringrazio veramente Tutti per la visione Mi mando Un bacione Un salutone Un abbraccione Fortissimo Lo vorrei Lo vorrei Da adesso Annulca Gli vorrei Da un abbraccio Fortissimo Niente Ci sentiamo Ci rivediamo Spero Vi lasciato Un like Io Non lo so Disperato Ma perché Perché sta Sfiga Queerando Mini Perché Ditemelo voi Qui sotto Nei commenti Scrivetemelo Io non ci credo Rimango veramente Stordito Dall'incapacità Di alcune persone Assurdo Detto questo Veramente Un bacio grandissimo E niente Ci vediamo Al prossimo video Ma soprattutto Alla prossima live Agata luffa Come sempre Ciao ragazzi Ciao ciao Sbruppo